I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, dopo un'indagine coordinata dalla seconda sezione della Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di tre soggetti gravemente indiziati di aver costituito un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa in danni dello Stato mediante la creazione di crediti di imposta fittizi per oltre 600.000 euro derivanti dal cosiddetto bonus facciate. Contestualmente è stato disposto il sequestro dei crediti e del profitto del reato a carico dei presunti autori della frode per un importo complessivamente superiore ai 650.000 euro. In particolare, secondo quanto emerso dalle attività d'indagine, un amministratore di condomini operante nel napoletano unitamente ad altri soggetti avrebbe creato sulla base di lavori di ristrutturazione di rifacimento, facciati in realtà mai eseguiti, un sistema di fittizi crediti d'imposta in capo ai condomini dei vari stabili amministrati che poi sarebbero stati ceduti agli indagati o a società ai medesimi riconducibili. Tali fittizi crediti d'imposta sarebbero stati in parte convertiti in denaro attraverso l'accessione ad operatori finanziari e in parte utilizzati per indebite e compensazioni d'imposta con corrispondente danno per l'erario.